La spaccatura all'interno del Partito Democratico e la scissione da parte dell'ex premier Matteo Renzi sta avendo ripercussioni anche in Abruzzo. L'ex segretario del Partito Democratico e premier con la fondazione del nuovo partito Italia Viva sta lavorando per portare con sé più adesioni possibili, ma ad annunciare di voler restare nel Partito Democratico nonostante se è stata una renziana di ferro e la presidente del PD regionale Manola Di Pasquale. Io ho sempre condiviso l'idea tra virgolette renziana di una riforma del partito, delle amministrazioni, ho fatto una campagna elettorale molto forte a tutela della riforma costituzionale del governo Renzi, però questa idea di formista, di formatore era un'idea che volevo portare all'interno del Partito Democratico e non all'esterno del Partito Democratico. La scelta che ha fatto Renzi di uscire dal partito è una scelta che io rispetto ma che ovviamente non condivido. Ho fondato il Partito Democratico, ritengo che i miei valori cattolici ritrovano una giusta collocazione anche all'interno del Partito Democratico attuale e ritengo che le battaglie devono continuare all'interno del partito. Oltretutto in un momento storico in cui bisogna stare uniti e lavorare insieme per possare reggere questo governo che è davanti delle grandi difficoltà dell'interesse dell'Italia e quindi con senso di responsabilità ritengo che noi dirigenti dobbiamo rimanere dentro il Partito Democratico. Quindi la parola d'ordine è unione in questo momento? La parola d'ordine è unione e progettazione e poi lo spirito riformatore di impulso lo si può sicuramente portare avanti anche dentro un partito nel rispetto delle regole democratiche.